ben trovati a questo nuovo filmato ci occuperemo di dimensioni già abbiamo utilizzato delle dimensioni per quotare per esempio la lunghezza di un segmento in questo filmato andremo avanti e oltre a vedere lunghezze di segmenti che abbiamo già appunto visto ci occuperemo di quotare distanze fra punti, raggi, diametri, angoli, lunghezze di archi tutte quelle diciamo grandezze geometriche dimensioni che comportano la posizione di una quota di un numero e che ci servono per definire compiutamente e vincolare compiutamente uno schizzo. Allora cominciamo con l'aiuto di questa costruzione geometrica, di questa geometria che mi sono preparato a quotare la distanza fra due punti per esempio fra i centri di questi due cerchi. Allora dobbiamo rientrare nell'ambiente di schizzo e lanciare il comando, è uno solo in Inventor, non ce ne sono altri quota. Poi sarà lo sviluppo, ciò che vado a selezionare che determinerà cosa io quota. Allora se mi porto su questo punto con il mouse diventa rosso quindi posso selezionarlo e automaticamente la quota diventa una quota di lunghezza, distanza fra questi due punti. Quando seleziono il secondo vedete l'iconcina sotto che dà una quota lineare. Quando vado a selezionare il secondo punto a seconda che mi metta in questa posizione viene data la posizione, la lunghezza orizzontale. In questa posizione la lunghezza verticale e tasto destro allineato la distanza fra i due sulla congiungente il segmento che unisce questi due punti. Quindi tasto destro ancora verticale, orizzontale, adesso non ci passo più all'orizzontale perché ho dichiarato che voglio la verticale, interrompo, mentre all'inizio se non dichiaro quindi quota, punto, punto. Se non dichiaro a seconda di dove mi metto lui interpreta da quel che so ecco esatto non riesco a pigliare la quota allineata per cui in sostanza muovendo il mouse in questa posizione in questa ho le due quote orizzontali e verticali. Se voglio l'allineata devo fare tasto destro e andarmi a scegliere la quota allineata. Adesso lasciamo qui la quota allineata. Analogamente la distanza fra questi due centri che sono centri di questi due raccordi quindi quota, il comando è sempre quello, è già pronto, primo punto, quindi primo punto, secondo punto, ancora non ho selezionato il primo, perfetto, allora solita verticale, orizzontale e se voglio l'allineata tasto destro allineata. Ok, interrompo il comando. Quota di un raggio, ESC, quota di un raggio o di un diametro. Allora sempre quota, solo questo il comando, vado a toccare non più un punto ma il diametro e viene dato il diametro. Vado a toccare, lasciamolo, confermiamo, vado a toccare un arco e viene dato il raggio. Ciò non toglie che posso cambiare. Allora poi rivedremo il diametro. Se qui invece di quotare il raggio voglio il diametro della circonferenza, tasto destro, tipo di quota, diametro. Se voglio l'arco, lunghezza arco. Quindi quando io vado a intercettare un raggio come questo ho queste tre possibilità. Adesso facciamo il diametro e vedete che viene quotato il diametro dell'arco che io ho costruito. Ok, allora questo lo quotiamo adesso come raggio. Ancora, tac, raggio, come, scusate, lunghezza dell'arco, così abbiamo visto anche la lunghezza di un arco. Quindi tipo di quota, lunghezza arco. Vedete che nascono in accordo alle norme due direttrici parallele fra di loro e viene data la lunghezza, con questa simbologia qui, viene data la lunghezza di quell'arco che è di 105,084. Torno sul mio diametro. Io ho sempre quota inserito. Vedete che è bluettato. Quindi se io clicco qui e non voglio il diametro ma voglio il raggio, tipo di quota, raggio. Ecco, ricordo però che le norme di disegno in questo caso dicono che questa quotatura è sbagliata. Può servire qualche volta, per qualche caso particolare, ma i cerchi hanno un diametro. Quote angolari. Allora, sempre quota, seleziono la prima linea e se mi muovo ho l'orizzontale, il verticale e l'allenato col tasto destro. Se viceversa torno di qua, adesso ho interrotto il comando, quindi lo rilancio. Quota 1 e dopo la prima vado a selezionare un secondo segmento. Vedete che nasce un simbolo diverso che è il simbolo dell'arco, dell'angolo e quindi scelgo la prima linea, scelgo la seconda linea e poi vado a posizionare l'arco. Vedete ci sono quattro posizioni, in effetti due segmenti determinano quattro angoli, quindi l'angolo compreso 108, quest'angolo supplementare 71 e rotti, questo angolo di qua uguale 108 e quest'angolo 71 e rotti. Posso scegliere uno dei quattro? A un certo punto scelgo e lascio giù il mio angolo. Attenzione perché questo è possibile anche quotare l'angolo fra due segmenti, questo e questo, che non hanno un vertice in comune, ma vedete che viene lo stesso letto l'angolo e posso anche qui mettere, in questa situazione qui, vedete che metto anche, viene anche evidenziato il punto comune dell'angolo fra quei due segmenti. Chiaramente anche qui ne avrò quattro, quindi uno, due, tre e quattro, quest'ultimo quello che mi permette anche di individuare lo spigolo dell'angolo formato tra da questo e questo segmento che non hanno punti in comune. Allora adesso aprirò un nuovo disegno e farò uno schizzo molto semplice, ma questo nuovo disegno l'apriamo nuovo, quindi nuova parte, non in millimetri ma in pollici. Può capitare di dover disegnare in unità del sistema anglosassone, quindi inch, crea, mi dice che non siamo a posto con le norme, adesso passiamo avanti, parte 1 e le unità di misura, in questo caso, sono i pollici a via schizzo, quindi sul piano x, y, costruiamo un banalissimo rettangolo. Vedete che già le misure compaiono in pollici. Non sto a vincolarlo, volevo solo farvi vedere un'ultima caratteristica delle quote, quota generica, in questo caso vado a quotare la lunghezza di un segmento, quindi procedimento del tutto uguale, clicco, sposto, c'è lì la quota in pollici, tasto destro, scusate, confermo, poi la vado a editare, quindi ci clicco sopra e attenti, perché se vado a cliccare, non mi ricordo, ecco qui dove c'è, no, scusate, qui dove c'è il minore, quindi sono in editazione, questa è la quota della lunghezza 0,511, posso cambiare il formato della quota in pollici, quindi la posso trasformare in una quota in decimali, vediamo l'effetto, non è cambiato niente, la posso trasformare, e questo triangolino qui non lo uso molto, si vede, in frazionare e vedete che la quota è diventata 65 centoventottesimi di pollice, che equivale a 511, quindi ho cambiato il formato della quota in pollice, ancora ci clicco sopra, clicco su questo triangolino, decimali l'abbiamo vista, è quello che veniva, frazionali l'abbiamo vista, architettoniche, 0 pollici e 65 centoventottesimi, 0 piedi, 65 centoventottesimi, 0 primi, 65 centoventottesimi secondo i pollici, piedi pollici, quindi se c'ho un qualcosa di più grande di 30 centimetri, qui vedrò 1 più il valore frazionario della quota in pollici. Questo non c'è, se adesso io qui confermo e torno nelle quote lineari, se questa quota qui la vado a editare, schiaccio il, clicco su questo segno di maggiore, non si apre niente di simile, perché le quote in millimetri sono espresse secondo il sistema metrico decimale, per cui non ci sono frazioni, non ci sono piedi centimetri o metri, come di là c'erano i piedi e i pollici. Quindi quella caratteristica, questa caratteristica qui è solo tipica, perdono è rimasto collegato alla misura in millimetri dell'altro disegno, ho cambiato finestra, quindi questa caratteristica qui è presente solo nelle quote in pollici. L'ultima cosa, lo facciamo addirittura su queste quote qui, se io adesso dovessi andare a quotare questa, allora, a vincolare questo rettangolo, per cui dico che questo e questo sono paralleli, che questo è orizzontale, che questo è parallelo a questo, ancora quattro quote, due sono la posizione, ma ancora ho bisogno di dirgli l'uguaglianza tra questa e questa, non solo paralleli, questo ipervincola lo schizzo, niente. Allora, vediamo con la quota. L'aggiunta di questa quota pervincolerà lo schizzo, scegliere eccetta per creare una quota non parametrica, era questo dove volevo arrivare sostanzialmente, abbiamo già visto questo discorso. Quindi questa quota, siccome sono parallele, siccome questi anche sono paralleli, quindi questa è chiaro che sarà lunga uguale quanto questo segmento verticale, sarà lungo quanto questo segmento verticale, è chiaro per i vincoli che abbiamo messo. Quindi se io vado a mettere un'altra quota per dirgli la lunghezza di questo, in realtà lui mi dice, sì, guarda, tu la puoi mettere, ma stai attento, non è una quota parametrica, è una quota che nel disegno si chiama ausiliare, cioè è già contenuta nel disegno, vedete che tra l'altro è espressa in maniera differente, qui ce l'avete espressa, adesso cambiamo, era in unità miste, e qui adesso è tornata come numero lo stesso, questa è la principale parametrica modificabile, questa viceversa, cioè se io qui vado a scrivere 5.5, questa la modifico e questa la segue perché è una quota non parametrica ma dedotta dal disegno, essendo già questo dato da un altro vincolo che questo segmento è lungo uguale a questo. Al solito se il filmato lo avete trovato utile, se avete imparato qualcosa, vi invito a lasciare un mi piace, vi invito ad iscrivervi al canale così da ricevere tutte le notifiche quando saranno pronti altri filmati e vi auguro buon lavoro.